Mussolini! Chi? Il generale Figliuolo! Me lo passi! Salve generale, sono Benito Mussolini, l'ho fatta a chiamare io. Volevo complimentarmi per la fantastica campagna vaccinale. Spezzeremo le linee Covid! Stiamo andando avanti? Mi piace! Siamo pronti per la terza dose? La quinta dose? Come la quinta dose? E boh, ma non era la terza dose, generale. Ah, ci sono le varianti! Non si preoccupi generale, come dice Dragon Ball, tante varianti, tanto onore! Eh, è così! Eh, lo so, è come una guerra, ma d'altronde non c'è niente di meglio per un soldato di svegliarsi la mattina e sentire quell'acro odore di amuchina e di alcol nell'aria, generale. Mi capisce? No, non ci arrenderemo! Come dice Dragon Ball, credere, obbedire, vaccinarsi! Ho fatto le due dose anch'io, sa, generale? Eh sì! E ho dei leggeri effetti collaterali. Sì, un gran mal di testa, forse perché si è aperto un buco di due centimetri sulla calotta cranica... ... ... ...